Quante volte mi avete chiesto un programma giusto per cominciare a montare i vostri video? Questa cosa è successa tante volte. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove oggi vi introduco ad un programma di montaggio. Ebbene sì, negli anni in cui io ho trattato la post-produzione qui su YouTube, mi è capitato tantissime volte di ritrovarmi la stessa domanda. Con che programma posso cominciare? Mi consiglio un programma di montaggio facile da usare per poter cominciare a montare i video? Ed ogni volta la mia risposta è stata prendetevi del tempo, trovate un programma di quelli anche più complessi e provate a capirlo e provate a giocarci. Ma mi sono reso conto che la mia risposta è sempre stata troppo complessa. Per chi aveva l'esigenza di montare soltanto un video, di poter cominciare a capire se quel mondo del montaggio, della post-produzione, gli potesse piacere. E il troppo sforzo probabilmente ha fatto desistere in tanti dal cominciare ad intraprendere questa strada. Ed ecco che arriva questo video. Questo video è creato in collaborazione con FilmoraX ed è il programma di cui voglio parlarvi oggi. FilmoraX di Wondershare, io lo conoscevo, Filmora, nella sua versione precedente già lo conoscevo, mi era capitato più volte di farci conti, di guardarlo. Non mi ci sono mai soffermato troppo perché lo reputavo un software troppo facilotto. Poi sono stato contattato dal team di Filmora che mi ha detto perché non provi a condividere un'esperienza su Filmora. Mi sono detto perché non proviamo e mi sono reso conto che esistono delle alternative ai grossi programmi di montaggio. Una delle cose di cui mi sono innamorato di Filmora è la semplicità. La semplicità con cui si affrontano i passaggi. Ma allo stesso tempo si può ottenere con molto poco sforzo un ottimo risultato. Ed è probabilmente questa la chiave vincente di Filmora. Ed è per questo che io registro questo video con una consapevolezza diversa. Quella del fatto che ora posso consigliare a qualcuno un programma di montaggio che costi poco e che sia totalmente nella curva di apprendimento di tutti quanti. Infatti Filmora ha un apprendimento così semplice perché super intuitivo. Infatti tutti i pulsanti sono semplici da capire, tutte le funzioni sono semplici da capire. Io ho fatto un piccolo esperimento, ho provato a montare senza conoscere Filmora e ci sono riuscito. Certo io vengo da un background dove conosco tanti altri software di montaggio quindi ad occhio poteva sembrare semplice. Ma quando si passa da un software all'altro a trovare le funzioni, a trovare gli strumenti adatti e con Filmora ci sono riuscito subito. E di più aggiungo che Filmora ha la possibilità di aggiungere tanti effetti, filtri, preset, animazioni, titoli, già integrati con una semplicità disarmante. Ma ora ci mettiamo allo schermo e vi mostro come funziona. Filmora può essere d'aiuto per cominciare a capire cosa significa il mondo del montaggio. E non solo ci può aiutare a capirlo, ma può anche portarci a realizzare i nostri primi contenuti, che siano video di vacanze o contenuti da caricare sul web. Ed è quindi qui che voglio mostrarvi come funziona, quali sono le basi di questo software che all'occhio sembra molto semplice. Questo è il software che ci si presenta davanti quando lo avviamo per la prima volta. Abbiamo una serie di tab dove poter cliccare, la prima tab che troviamo è la tab media, poi abbiamo la tab audio, titoli, transizioni, effetti, strumenti e schermo diviso. Ora, come è facile intuire, l'utilizzo di queste tab serve a spostarci all'interno delle relative categorie per organizzare i media, per trovare delle tracce audio. Questo perché Filmora ci dà la possibilità di poter, con una serie di abbonamenti extra, avere all'interno del nostro pacchetto di base una serie di suoni o canzoni già da poter utilizzare. Oppure, grazie all'utilizzo di abbonamenti extra, poter trovare altro materiale. E questa è una delle grandi potenze di Filmora. Il fatto di avere delle library che ad un costo molto contenuto ci permettono di fare cose molto simpatiche e divertenti. E lo stesso concetto delle library audio si può applicare anche alle library dei titoli, delle transizioni, degli effetti o degli elementi. Abbiamo tutta una serie di contenuti già presenti all'interno del nostro abbonamento base, ma abbiamo la possibilità di trovarne tantissime altre su Filmstock, quindi la library di Filmora. Ma il mio obiettivo è quello di adesso introdurre alla creazione di un contenuto, quindi a montare un video. Diciamo che ho messo da parte una serie di clip, video e una canzone da dover montare. Quindi proviamo a creare un nuovo progetto. Allora, rispetto a tutto quello che ho sempre raccontato dei software di montaggio, quando in questo caso si crea un nuovo progetto, quello che va fatto è stabilire l'aspectrazio del progetto e non andare nei parametri. Questo perché Filmora ci aiuta anche in questa decisione di quelli che sono gli aspetti più tecnici. Quindi quando ci viene richiesto, quando chiediamo di creare un nuovo progetto, ci verrà richiesto qual è l'aspectrazio. Se deve essere 16 noni, quindi widescreen. Se deve essere 1 a 1, quindi Instagram, Facebook. Se deve essere un ritratto, quindi 9 sedicesimi, che sarebbe un full HD in verticale per intenderci. Un 4 terzi oppure un 21 noni, che Filmora ci identifica come cinema. Ora, io parto dal widescreen, quindi un 16 noni, e di base non è cambiato nulla, se non che Filmora ha settato quelle che sono le impostazioni della nostra timeline e del nostro progetto sul 16 noni. Di base, una cosa che vi posso dire, è che Filmora prepara una timeline in full HD a 25 fotogrammi al secondo 30. Ma nel momento in cui noi andremo a caricare il primo contenuto, Filmora si renderà conto se vogliamo creare una timeline in 4K o in full HD. Ve lo mostro. Per prima cosa dobbiamo importare le nostre clip, che siano file video o file audio. Quindi clicco su Importa, navigo nella cartella dove ho tutto il mio materiale, e mi seleziono tutto quello che voglio importare. Audio e video, indifferenti. Ok, una volta importato tutto il mio materiale, io ho tutte le mie clip qui da poter guardare, ho anche la mia canzone da poter ascoltare, volendo. Mi basterà cliccare due volte sopra per avviarla nella mia preview. Allora, per prima cosa voglio cominciare importando la prima clip video all'interno della mia timeline. Quindi prendo la mia prima clip e la trascino in timeline. Come vedete, in automatico Filmora setta la nostra timeline. Ed ecco che arriva il primo messaggio. Le impostazioni di base del mio progetto al momento sono 1920x1080 a 30 fotogrammi al secondo. Ha riscontrato Filmora che il primo contributo che io ho trascinato all'interno della mia timeline è sì un full HD ma a 29.97 fps. Io deciderò, in questo caso, di mantenere la timeline di base che Filmora ha creato. Così facendo poi Filmora andrà a restringere tutto il mio materiale facendolo combaciare con quello che mi interessa. Quindi con la timeline mia di preferenza. Naturalmente Filmora in questo momento mi indica tutte le possibilità, ma le andiamo a vedere tra poco. E io cosa voglio fare? Trascinare anche il mio brano audio. Do il tempo a Filmora di caricarlo. Abbiamo la possibilità in timeline, muovendoci, muovendo il cursore su questa parte qui della timeline, di poter zoomare, fare un zoom in e un zoom out. Oppure se prendiamo il nostro cursore abbiamo la possibilità di muoverci nel tempo. Ora, io già conosco un pochino la mia traccia, quindi devo fare un paio di tagli sulla mia musica. E in maniera molto intelligente abbiamo lo strumento di taglio qui sul cursore. Quindi mi basterà cliccare sullo strumento di taglio e così ho diviso le mie due clip. In modo molto ma molto semplice. Vado un pochino oltre, voglio pescarmi il finale di questa canzone. Ok, clicco qui, riposiziono, clicco e la canzone viene tagliata. Oddio, ho sbagliato. Ok, clicco qui, cancello e mi unisce quelle che sono le mie due clip. Ora ci rispostiamo sulla mia timeline e cominciamo a montare. Come? Semplicemente clicco il mio play. Voglio che la mia prima immagine cominci da questo punto. Ok, mi sposto e molto semplicemente utilizzando la freccettina, abbiamo tutti gli strumenti comunque in timeline da poter utilizzare, molto ma molto semplicemente, va la spazzatrice, comincio a sentire e a vedere quello che faccio. Ok, in questo punto voglio effettuare un taglio, quindi mi sposto, seleziono la mia clip e clicco sull'iconcina del taglio, me la vado a cancellare e mi importo quest'altra clip. Me la aggancio. Ora, questa clip per me è molto lenta. Questa clip per me è molto ma molto lenta, quindi vorrei velocizzarla. Come posso fare? Beh, ci clicco sopra, abbiamo lo strumento qui per velocizzare, posso sia fare una velocizzazione personalizzata oppure andare ad utilizzare dei preset, quindi se voglio velocizzare a 2x, a 4x, a 8x, a 20x, posso tranquillamente cliccare qui, infatti voglio provare a velocizzare ad 8x e per me che vorrei far arrivare questa clip in questo punto è un po' troppo poco, quindi riclicco su quest'iconcina, faccio velocità personalizzata, vado qui e faccio velocizzamelo di 7x invece che di 8x. Così facendo sono arrivato esattamente nel punto dove volevo, quindi mi basterà premere play per poterla vedere. Ora, continuiamo, voglio continuare a montare e aggiungiamo la clip di questo giovanotto che fa esercizio. Perfetto, ci agganciamo subito quest'altra clip della ragazza che sta pulendo, sta mettendo a posto la tavola. Bam! E qui aggiungiamo un'altra bella clip, un bel campo largo, che io ho queste bellissime montagne, mi taglio quello che non mi serve. Anche qui voglio velocizzare questa clip, quindi faccio veloce, me la velocizzo 8x. Voglio uscire un pochino prima, quindi voglio uscire in questo punto, quindi qua mi taglio la mia clip. Tutto il resto è eccessivo, non mi serve. Ho sbagliato, ho selezionato una cosa sbagliata. Ragazzi, allora, il punto è questo, è che Filmora è un software molto ma molto intuitivo, quindi anche a chi non ha grandissime competenze di utilizzo, può, con davvero pochi click, ottenere dei risultati davvero fantastici. Come state vedendo, io con davvero pochi click, sto montando quello che potrebbe essere tranquillamente uno spot emozionale. Adesso aggiungiamo anche una bella clip emozionale di una ragazza che pattina. Adesso qui la taglio. Butto quello che non mi serve. aggiungiamo quest'altro bellissimo panorama. Sul taglio della musica aggiungo un'altra clip. qui ho notato che voglio aggiungere un altro taglio perché visto che c'è un bel picco di musica qui che la mia musica finisce aggiungiamo una nostra ultima immagine ok io ho completato quello che è il mio montaggio adesso devo andare ad aggiungere sicuramente una dissolvenza in chiusura per chi mi piace quindi mi basterà andare su transizioni e nelle mie transizioni già incluse posso tranquillamente trovare una dissolvenza la posso semplicemente trascinare ed abilitare così facendo ho aggiunto la mia dissolvenza e ce ne sono tantissime da poter provare e infine voglio aggiungere anche un bel testo quindi mi basterà andare su titoli andare non lo so su questo qui il titolo 28 sono tutti quanti molto particolari sono da sperimentare quella è la cosa bella mi basterà cliccarci due volte sopra e mi si aprirà il mio editor ok mi basterà spostarmi così facciamo in questo modo e avendo scelto un preset di un titolo da animato la cosa divertente è che noi abbiamo già l'animazione del nostro testo cosa assolutamente da non sottovalutare per esempio vogliamo un'animazione in uscita ci prendiamo una semplice transizione in dissolvenza andiamo ad applicarla così abbiamo anche il nostro testo che va in fade out con davvero pochissimi clic abbiamo creato qualcosa comunque di fantastico e voglio sottolineare che non c'è bisogno di grandi competenze questa mia piccola dimostrazione la sto facendo dopo aver davvero soltanto aperto una volta filmora per rendermi conto di come funzionava e mi son detto voglio mostrare a tutti quanti che è davvero semplice utilizzarlo perché molto ma molto intuitivo come infatti voglio fare la color voglio aggiungere dei livelli di color questa è una cosa che ho provato mi è piaciuta tantissimo perché se vado negli effetti e vado sotto la voce loot io troverò una serie di color già pronte quindi delle loot già preimpostate che io posso trascinare su una mia clip così quella clip verrà colorata con quella loot oppure ancora più bello trascinarla non su una clip ma sulla mia timeline così mi verrà creato una sorta di livello di regolazione con quella loot applicata che praticamente se io la decido di stendere su tutte le clip posso tranquillamente trascinarla su tutte le clip a cui voglio applicare questa color e in automatico mi verrà applicata se voglio andare a mischiare ho preso una tilline orange e adesso un preset che si chiama gave them a thrones quindi probabilmente richiamerà quelle che sono i colori della serie ed infatti sono proprio quelli sono proprio belli con un semplice clicco trascinato ho ottenuto un livello di regolazione adesso giusto per cambiare aggiungo un altro livello di regolazione di un altro colore il titolo me lo sposto più su così arriviamo fino e fine ed ho ottenuto quest'altra color davvero bella insomma è molto ma molto semplice e se io volessi fare tantissime altre modifiche potrei tranquillamente giusto per darvi un'ulteriore infarinatura dell'interfaccia di filmora se io voglio modificare i parametri di una determinata clip mi basterà cliccare su quella clip e utilizzare tutti questi tasti funzione il primo è quello per cancellarla naturalmente ci butterà la clip dalla nostra timeline la seconda è per tagliare la nostra clip nel punto del cursore poi abbiamo la possibilità di andare a ritagliare la nostra clip quindi se vogliamo andare a ricreare il nostro frame possiamo tranquillamente farlo in questo modo e ci verrà aggiornato qui all'interno del nostro canvas abbiamo come già visto l'iconcina per andare a modificare quella che è la velocità della nostra clip abbiamo la voce per attivare la correzione colore della nostra clip e ritroviamo tutti i nostri preset che avevamo anche nella tabella effetti oppure possiamo andare noi a regolare tutti i parametri con cui ottenere il miglior risultato possibile per la nostra color ancora abbiamo la possibilità di tracciare o animare con i keyframe quindi possiamo anche fare delle cose un po' più avanzate oppure semplicemente andare nelle impostazioni della nostra clip impostazioni che possono essere semplicemente quelle per la rotazione della nostra clip in timeline quella per scalarla o riscalarla o per spostarci semplicemente per spostarla nello spazio insomma abbiamo tantissimi strumenti che ci danno la possibilità realmente di poter arrivare molto semplicemente al nostro risultato abbiamo montato tutto ora ci tocca esportare beh c'è un tasto fantastico gigantesco esporta con molta semplicità e ci guida letteralmente verso il file che noi vogliamo possiamo scegliere grazie a differenti tab la possibilità di scegliere o il formato con cui puoi impostare la nostra uscita possiamo scegliere il dispositivo e così Filmora deciderà quelle che sono le migliori caratteristiche e formati adatti o addirittura andare direttamente e caricare direttamente un video su youtube su vimeo oppure prepararci un bel dvd nel nostro caso voglio fare un formato voglio scegliere il formato scelgo un mp4 scelgo le impostazioni di uscita posso scegliere la qualità migliore ad esempio mi va a cambiare quello che è il bitrate quindi se siete degli utenti alle prime armi con molta semplicità potete tranquillamente scegliere una di queste tre opzioni ricordate che più scegliamo di ottenere una qualità migliore più il file sarà grande ci basterà cliccare su ok scegliere la cartella dove Filmora deve salvare il nostro file e cliccare sul tasto esporta come avete visto la mia esperienza su Filmora è stata molto ma molto semplice ma sono riuscito con estrema semplicità a montare su quel software ed è per questo che da oggi comincio a consigliarlo per chiunque abbia la necessità di imparare un piccolo programma di montaggio per montare i propri contenuti che vadano su youtube oppure per chi deve montare i video delle vacanze ci sono tantissimi di voi che mi hanno fatto queste richieste e Filmora diventa il programma ideale tutte le funzioni di Filmora si possono racchiudere in pochi e semplici prezzi prima di tutto abbiamo la possibilità di comprare Filmora in abbonamento per un anno al costo di 40 euro più IVA ma con 30 euro in più più IVA quindi circa 40 euro in più possiamo comprarlo per sempre e sì possiamo prendere l'abbonamento Lifetime di Filmora con con soltanto 70 euro più IVA che saranno che sono all'incirca 85 euro ci possiamo permettere l'accesso gratuito al software per sempre e questa è una cosa fantastica perché ci sono tanti amanti delle subscription quindi che amano pagare un abbonamento una fee mensile annuale oppure tanti che invece vogliono comprare il software e fare in modo che sia loro e basta e grazie all'abbonamento noi siamo sempre in grado di avere la nuova versione Filmora X è uscito la versione X da a metà 2020 circa quindi la prossima versione per chi ha l'abbonamento potrà scaricarla in automatico un'altra cosa particolare che offre Wondershare con Filmora è una library di contenuti di testi animati di preset di loot di effetti tutte queste cose fanno parte di possiamo fare un abbonamento che ci mette a disposizione tantissimi di nuovi effetti e non solo quelli già presenti nella libreria ma anche tutti quelli che usciranno infatti con 100 euro più IVA quindi siamo intorno ai 122 euro per essere precisi avremo a disposizione la licenza Lifetime di Filmora ed un anno di subscription per le library insomma a conti fatti Filmora diventa un programma di montaggio non solo facile da utilizzare semplice da apprendere molto potente disponibile su tutte le piattaforme quindi che sia Mac o PC e che ci mette a disposizione tutta una serie di preset per creare dei fantastici contenuti per questo da oggi Filmora è il software che io consiglio per chi non ha esperienza e vuole imparare un programma di montaggio per immergersi nel mondo della post-produzione e del content creating e del montaggio del video delle proprie vacanze insomma siamo giunti alla conclusione di questo video e di questa fantastica mia con la prima collaborazione con Filmora che mi ha fatto devo essere sincero mi ha fatto scoprire un software che non pensavo fosse così potente beh cos'altro dirvi se avete qualche domanda scrivetemi qui sotto nei commenti iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace io vi ringrazio per la visione noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video grazie a tutti grazie a tutti